Era la pubblicità degli anni Ottanta, facciamo l'intervista. Chi è? No! Non la sta! Fermoso, alzato ai piedi e spostato il culo da sedia che deve trovare orecchino che mi ha regalato il figlio D. Lilia, ma cosa fa? Siamo in diretta, lo capisci? Lilia, non ho capito bene, il figlio D le ha regalato un orecchino? No, uno, ma due orecchino. Lui non è tirchio come a Peppa. Basta con questa storia, quindi vi siete fidanzati? Ah sì, ci abbiamo messo insieme l'assier di San Valentino. Ma ecco perché era impegnato e non si è fatto vedere in radio, si è tolettato tutto il giorno per lei. Lilia, stia attenta che lui fa così con tutte e poi i gioielli sono falsi, glielo ho detto. È vero. Forse tu avrai ragione, ma tanto io puliscio e trovo orecchina e se non droga io mi angazzo con voi. Con me. Alta la pieta. Oh, ciccia, stai calma che ti faccio tornare in Moldova, capito? Fuori da qua! Fuori! Peppa, quando fai canteva con me, divendo sexy come... Come Banderas? No. Eh, come Brad Pitt allora, dai. No. Come George Clooney, ho capito. No, come Topo Gigio. Ma se ne vada, per favore, vada a lavorare, su, continua. Ma Dalilia, tanto a Topo Gigio ci penso io. Topo Gigio, abbasso i piedi. Ecco fatto, io vado. Eh, grazie, eh, Leo, anche tu mi difendi sempre. Però posso migliorare a Topo Gigio, è vero. Eh, ma cosa dici mai, ne? Lo fa meglio Dino Brown, Topo Gigio. Ma cosa dici mai? Ma cosa dici mai? Lo fa meglio Dino Brown, Topo Gigio. Ti non posso come Topo Gigio, ne? Eh.